And I touch your face, narcotic might raise, well we change Quanto proietta indietro questo pezzo? Il pezzo dei liquido narcotic alle 6.43 minuti, radio popolare, snooze, parliamo di mobilità elettrica, uno dei temi principali di periodo, ovviamente per Milano inquinamento e quant'altro C'è stata la polemica e ne abbiamo parlato sulla questione delle bici elettriche del BikeMe che pare essersi parzialmente risolta e la seguiremo ancora Ma ciò di cui parliamo adesso è una tre giorni, dal 18 al 20 maggio al Castello Sforzesco di Milano, i MOB, la conferenza nazionale della mobilità elettrica Buongiorno a Camillo Piazza Buongiorno a voi Buongiorno Camillo Piazza, deputato ma anche animatore della Tre Giorni, durante la quale appunto si racconterà e si parlerà di come ci si muove in Italia e si cercheranno magari anche di dare soluzioni e proposte Ci si può ancora registrare per l'evento? Certo che sì, è aperta ancora l'iscrizione e basta andare sul sito emob2017.it Perfetto, dette le questioni di servizio sarà il Castello Sforzesco da domani a sabato al 20 maggio, insomma si parla di mobilità sostenibile Camillo Piazza, come siamo messi in Italia per quanto riguarda mobilità elettrica sostenibile? Siamo messi peggio credo che dell'Africa, nel senso che in Italia la mobilità elettrica non è ancora partita per diversi motivi C'è ancora qualcuno che è convinto che il combustibile fossile, in particolare petrolio, GPL e metano possa dare una mano Invece non è così, noi abbiamo delle città come Milano dove l'inquinamento, la qualità dell'aria è pessima E' uno dei modi, non soltanto ovviamente serve la mobilità elettrica, è anche ridurre l'inquinamento della combustione dei motori a scoppio Senta, in queste tre giorni si parlerà di tante cose inerenti ovviamente alla mobilità elettrica Ma l'obiettivo più importante è quello di presentare una carta metropolitana sull'elettromobilità Una carta da presentare al governo Ci puoi anticipare tre punti che sono importanti in questa carta per riuscire finalmente a sviluppare la mobilità sostenibile? Sì, questa carta non presentiamo soltanto al governo ma la presentiamo anche ad altri sindaci delle città metropolitane Infatti sarà presente il comune di Roma, Firenze, Bologna e altri Perché io sono convinto, siamo convinti che è il comune che deve in qualche modo difendere la salute dei cittadini E su questa carta chiediamo tre cose Uno, copiare un po' il modello di Milano sull'area C Non è il massimo, però è un modello dove in qualche modo permette di sviluppare il mercato della mobilità elettrica Secondo, favorire l'installazione di qualità dei sistemi di ricarica E terza cosa, chiediamo al governo come hanno fatto in tutta Europa Un po' di incentivi sulla macchina elettrica Perché la macchina elettrica abbassa veramente un po' l'inquinamento atmosferico Ecco, al di là della macchina elettrica, io proprio un paio di giorni fa stavo quasi per comprare un, come si chiama, un triciclo Non un triciclo, come si chiama, quello che vai su due ruote Il monopattino, il monopattino elettrico E ho scoperto, per fortuna prima di comprarlo, che è vietato utilizzare quel tipo di strumenti Sia sulla strada, sia sul marciapiede Quindi non si capisce dove si possano utilizzare Dato che si stanno, comunque diffondendo i costi, si stanno anche calando di questi attrezzi Che, peraltro, sono anche molto comodi per muoversi Si può pensare anche di fare qualcosa in tal senso? Oppure è un mercato ancora troppo di nicchia? Che ci dice? No, è un mercato un po' di nicchia E poi, purtroppo, il regolamento, il codice della strada non lo prevede Per cui chi compra questi piccoli mezzi di trasporto rischia una multa molto elevata Quindi, in questo momento, lo sconsiglio E poi occorre, ovviamente, fare in modo che il governo cambi il codice della strada Altrimenti, uno che compra questi mezzi rischia anche fino a 200 euro di multa Perché alla fine vanno quanto una bicicletta, se non di più Quindi, insomma, il pericolo, diciamo, di circolazione è quello di una bici Ecco, non certo superiore Esatto, poi il pericolo è, come la bici, e poi anche la stabilità Perché la bici, perlomeno, ha due ruote Questi altri mezzi, invece, hanno piccole ruote sotto i piedi Che, in qualche modo, non permettono una stabilità completa A 30, 40 all'ora non è semplice Senta, quali sono, se dobbiamo dare delle priorità Quali sono le priorità prime sulle quali, insomma, si può lavorare anche in termini di locale Comuni, Milano, insomma, le grandi città italiane La prima cosa, ovviamente, è ridurre il traffico Per cui permettere di sviluppare la mobilità, il trasporto pubblico Il car sharing e le macchine in proprietà Secondo, se uno deve per forti comprarsi una macchina È molto meglio comprarsi una macchina che non inquina a livello indoor Per esempio, una macchina elettrica La terza cosa è del tutto evidente che siamo per una mobilità dolce E quindi, città come Milano, credo che sia opportuno utilizzare le biciclette E ho i piedi, perché c'è un sistema di trasporto pubblico abbastanza adeguato Ecco, come do io il buon esempio, ogni giorno vantandomi con gli ascoltatori Che vengono a lavoro solo in bicicletta Camilo Piazza, la ringraziamo Ricordiamo la conferenza nazionale della mobilità elettrica Ci sono molti ospiti Nelle tre giorni Non stiamo ovviamente ad elencarli tutti Si svolge il Castello Sforzesco, l'abbiamo già detto Il primo appuntamento è per le nove e mezza circa Con il classico benvenuto domani mattina E poi, insomma, si va avanti nel corso della tre giorni Vuole segnalare qualcosa in particolare per i nostri ascoltatori? Sì, chi viene al Castello vedrà anche parecchie macchine elettriche Parecchi mezzi Parecchi mezzi di trasporto delle merci Per far vedere che la mobilità elettrica è possibile qui ed ora Grazie mille, buona giornata Anche a voi, buona giornata Grazie a voi Grazie a tutti.